Siete pronti per partire? Ovvio, se l'acqua praticamente non ci arriva addosso La bicicletta elettrica ti devi comprare, non sei vecchio! Ormai ti devi andare in pensione, ritira! Qua si beve e si mancia e non si pedala! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!